cosa? Perfetto, iniziamo questa analisi. Abbiamo Tristana, i nostri signorini, Tristana, Pyke contro Vayne e Nami. Allora, Tristana è un campione molto aggressivo che gioca bene in trade, gioca bene di all-in, gioca male di Pock. Pyke invece anche lui gioca bene di all-in, il trade molto più complicato, anche perché è un campione che appunto ha un kit molto basato sull'all-in e Pock 0. Vayne invece anche lei, trade, soprattutto all-in molto forte, mentre invece Nami ha il suo Pock, ha il suo trade e ha anche la sua minima possibilità di all-in come campione da buff. È la sua potenzialità più bassa ovviamente quella. Come si gioca la lane Tristana Pyke contro questi due? Allora, uno dei modi più semplici è fare un follow-up su un grab di Pyke. In questo modo cosa succede? Se voi seguite un grab di Pyke non dovete saltare dentro perché lui avvicina il target a voi, quindi piazzate direttamente la bomba sopra, il target viene stunnato o comunque slowato da Pyke e tutto, riuscite a far esplodere la bomba senza problemi. Perché non doveste saltare sopra gli avversari? Perché Nami ha la bolla e di conseguenza se voi saltate contro Vayne per cercare di ingaggiarla giocando aggressivo come si gioca di solito Tristana, Nami semplicemente tira la bolla di fianco a Vayne, vi stunna e vi incula. Se invece giocate sul grab di Pyke potete mantenere lo spacing con Nami e non farvi stunnare dalla bolla, per poi giocare aggressivo nel momento in cui la bolla viene sprecata oppure Nami muore o robe del genere. Il modo migliore infatti per vincere questa lane è o killare Vayne mentre è totalmente fuori dal range di Nami o uccidere istantaneamente Nami perché ha molti meno HP di Vayne e se è stunnata non può tirar la bolla, quindi questo vuol dire che se Pyke tira grab poi la stunna potete saltarla addosso, fare tutto quello che volete, la uccidete e Vayne dopo non riesce a fare 1v2, almeno nei primi livelli. E importantissimo da tener conto, ovviamente, lo sottolineo per cosa anche se l'ho già accennato, se Nami spreca la bolla allora è il momento di allinnare anche con Tristana, cioè potete saltare addosso avversari, stare molto attenti al muro quando siete davanti a Vayne, quindi cercate sempre di mantenere un positioning con Vayne in modo che non siete tra Vayne e un muro, ok? Perfetto. Una cosa da tenere a mente è che Vayne è uno di quei campioni che fa molta fatica a pushare, ok? Quindi questo vi permette di fare due cose, uno forzare un freeze se lei non gioca bene, cioè se Vayne continua a colpire i minion perché non sa gestire le wave e tutto, quindi continua a cercare di pushare la wave. Se voi avete un qualunque campione che pusha un minimo meglio di Vayne, quindi vuol dire tutti tranne Aphelios e Aphelios senza l'inferno praticamente, super giù, potete forzare la wave di minion a rimanere sempre in questo punto, visto che ha Nami che anche lei è un campione che non pusha particolarmente, ok? Se no, seconda cosa, che è la cosa invece attiva da fare e non in risposta a un errore dell'avversario, è pushare Vayne sotto torre. Vayne fa fatica a farmare sotto torre perché ha soltanto gli attacchi base per farmare e di conseguenza, visto che ha anche un clearing di wave penoso, potete continuare a pushare la sotto torre, mandarla sotto torre e farle perdere un sacco di minimo e mandarla indietro. Quali preferite fare se avete Pyke come support? Preferite il freezing. Perché? Perché date spazio a Pyke per ingaggiare gli avversari e cercare di gli all-in. Se invece li pushate sotto la torre, Pyke diventa inutile perché non può fare niente. Va bene? Perfetto. Ogni volta io gli dico va bene, perfetto, ma dovrei smetterlo. Devo cercare di raggiungere un livello di conversazione più aulico. Va bene, qua hai farming e basta, non c'è niente da fare. Cioè, non c'è niente da vedere. Appunto, come abbiamo detto prima, si può forzare la wave fuori dalla torre, basta attaccare un pochino di più, magari utilizzare addirittura la bomba sui minimo per depusciarli. Dipende dai vostri bisogni e dal vostro ADC. L'unico problema... Mamma mia. Uh, ok. Ok, questa è una kill sprecata. Perfetto. Ok, rivediamo questa cosa. Allora, l'abbiamo spiegato prima, che questa è una condizione di kill. Ricordatevi sempre questa cosa, ragazzi. Su League of Legends non si gioca semplicemente a prendersi a schiaffo in faccia. Ci sono condizioni di kill, ci sono kit, tutte le cose da tenere a mente. Perché il campione avversario è più forte del mio? Perché il campione avversario è più debole del mio? Non è che semplicemente i due campioni si guardano in faccia e tu sei più debole di me, sei una merda via boncato in faccia e morto. I campioni hanno un kit, hanno delle abilità. Un campione è più forte di un altro perché una sua abilità lo rende più forte di quel campione. Ok? Oltre al fatto di buildare oggetti e roba del genere, non importa quello. Quindi, in questo caso, perché Nami ci dà dei problemi e non ci permette di ingaggiare Vayne? Perché ha la bolla. Nami non ha la bolla? Perfetto. Allora non hanno modo di bloccare un Olin di Tristane. E un Olin di Tristane è mortale su un avversario a questo livello. Ok? Quindi, vi faccio vedere. Se Nami gioca in questo punto e viene grabbata, Nami non ha più la bolla. Viene grabbata da Pyke e qui si fa subito. Ci si gira, bomba, si clicca la Q. Se è livello 3, c'è tutte e tre le skill. Bomba in testa, si carica la bomba e si fa esplodere la bomba su Nami senza saltarla in testa. Perché non dovete saltarla in testa? Perché siete già in range, quindi perdete tempo. Fate prima mettere bomba e attacchi base piuttosto che fare salto e bomba, anche se perdete i danni della V, ma potete utilizzare la V per seguire Nami, nel caso flash prima che fate esplodere la bomba, oppure riposizionarvi nel caso veni in faccia dei movimenti strani. Ok? Quindi bomba subito, si comincia a dittare Nami. Si continua a dittare Nami con la Q attiva, con le love blades e tutto. Nami, guardate quanti HP ha perso adesso. La E maxata fa 169 danni. Ok? Con la Q attiva avrebbe colpito letteralmente due volte, no, due volte no, però almeno un attacco due le avrebbe fatte in più. Nami è praticamente morta. Ok? Seconda cosa, altra condizione di questa lane. Dove è Vayne? Mai stare tra Vayne e un muro, perché sennò ci stunna e se ci stunna ci blocca i danni. Se ci blocca i danni non possiamo killare gli avversari e se ci stunna in più possono tirarci tutto quello che vogliono perché non possiamo schivare, non possiamo reagire, non possiamo scappare, non possiamo fare niente. Quindi Vayne si avvicina, si salta e si killa Nami. Una volta killata Nami si salta verso la salvezza oppure si continua a picchiare Vayne. Dipende da come continua la cosa. Tu hai ancora lì al... è molto semplice cercare una kill in questo momento, capite? In questo caso c'è stato soltanto uno spreco. Perché qui c'è stato letteralmente lo spreco del flash e dell'ignite di Pyke per non ottenere nulla. Vediamo cosa tiriamo fuori. di nuovo la bolla di Nami adesso non è più disponibile quindi possiamo giocare più aggressivo. se Vayne si avvicina che ha il PTI e quindi è molto più lenta da autoattaccare bomba in testa Q. Tre attacchi e via. Mandata al baretto eh. Salto. Bomba. di nuovo la bolla è stata sprecata. Tiri giri e l'attacchi. C'hai pure il flash. Gli flash in faccia. Attacchi. Gli fai esplodere la bomba. Gli flash in faccia se non ci arrivavi di attacco base. Se camminavi all'interno ci arrivavi perché ha continuato a tirare te dritto. Fai esplodere la bomba e lo uccidi. Questo qui è la terza volta dove Nami doveva morire non è morto. E questi qui ragazzi sono errori molto sottili ma sono errori. Sono errori che vi possono mandare in vantaggio. Ed essere in vantaggio ragazzi non vuol dire semplicemente avere dei gold in più e poter carriere il game. Essere in vantaggio vuol dire cambiare il mood anche del vostro del vostro team. Bene. Questo questo engage è stato buono. Bravissimo. Ok. Buono buono buono. Perfetto. Vuol dire anche cambiare il mood del vostro team. Se il top laner guarda botlane e vede che voi siete 3-0 gioca molto meglio rispetto che quello che guarda botlane vede che siete 0-3-0. Capite? Anche il tilt è una cosa importante da tener conto ragazzi. Non è un caso che i game dove vincete la lane andate 3-0-5-0 robe del genere. Sono dei game molto più semplici da giocare rispetto che i game dove invece andate 0-5-0. Dove spesso la gente gioca meglio. Non è un caso che la gente giochi meglio nei game game dove voi giocate meglio. Avere un alleato che inta fa giocare peggio tutti gli alleati anche se il suo intera lane non ha nessun impatto sull'eiling che state giocando. Ok? Ciao leggendario. Leggendario faccio analisi di gameplay che sono queste qui. Le puoi comprare con i punti canali ma dopo questa qua sono disabilitate per un po'. Stiamo facendo una challenge. Adesso vediamo. Ok. Qui non diciamo niente perché c'è stata l'ennesima bolla mancata di Nami e finalmente avete fatto il giusto lane. Ok? vediamo un po' gli oggetti. Va bene. Aspettiamo Pai che hai fatto bene a non giocare troppo aggressivo visto che non eri sicuro di. Anche se in teoria a questo livello Vayne non può farti niente. In 1v1. Se cerca di ingaggiarti tirerà ulti e disingaggi senza problemi. Con ulti salto. E fai veramente tanto danno. Hai dei trade molto buoni. E questo qui è overstay. E questo qui è overstay. Ok. Questo è un po' che non lo spieghiamo quindi ve lo faccio rivedere. Allora. Nel momento in cui andate a pushare la wave avversaria, pushando e a pushare la torre avversaria portando la vostra wave sotto la loro torre, non è che potete rimanere sotto la loro torre a tempo indefinito o fino a quando la vostra wave non muore o roba del genere. C'è un tempo particolare da rispettare. Ma qual è? Il tempo particolare da rispettare è il back time degli avversari. Cosa vuol dire questo? Vuol dire in pratica che voi dovete cercare di prendere più vantaggio possibile sulla torre prendendo le placche, prendendo gold e roba del genere. Ma allo stesso tempo tornare in base, spendere i gold che avete guadagnato da le kill che avete fatto prima di pushare sotto la torre e roba del genere o il push sotto la torre, insomma quello che volete. E di conseguenza, dopo, ritornare in lane prima che gli avversari abbiano portato la loro wave sotto la vostra torre, in modo da impedire di prendere placche, di farvi perdere minion e roba del genere. Quindi come si fa questa cosa? Portate la wave sotto torre, prendete placche della torre, di solito una placca è già il massimo che potete prendere. In base ai campioni che avete, le rune che avete, tipo il Demolish, Tristana che fa danno bonus alle torre e roba del genere, potete provare anche a prenderne due o in base anche agli avversari. Ad esempio, io vi ho già detto che Vayne pusha molto lentamente, Tristana fa tanto danno alla torre velocemente, quindi potete provare a prendere due placche. Fine. La placca è presa, tornate indietro e ricollate. Vayne praticamente è in lane, ma Vayne ci mette tantissimo a pushare, quindi sarete sicuri che prendendo questa placca, ricollando, spendendo i gold e tornando in base, la wave di Vayne sarà più o meno in questo punto qua. Se invece rimanete in lane, quello che succede è che tutti i gold che avete accumulato, che in questo momento sono 1800 gold, sono tanti 1800 gold da spendere, non vengono sfruttati. Lasciate stare che in questo caso Vayne ha turbintato e di conseguenza è quasi partita una kill, ha turbintato pure Pyke. Comunque, se rimanete in lane e non avete speso i vostri gold, potrebbero partire dei fight storti, cioè dei fight svantaggiosi, questo qui era un fight trollato e basta. Potrebbe gankarvi il jungler avversario, perché è troppo tempo che siete sotto la loro torre. Cerchiamo di muoverci quando autoattacchiamo, e mille altre cose, capite? Mentre invece resetando, potenziate il vostro campione perché spendete i gold, non perdete i minion perché tornate prima che i minion arrivi sotto la vostra torre, ottimizzate il vostro tempo, cazzi e mazzi. Altra piccola cosa importantissima da fixare quando giocate, ragazzi, cioè se voi non vi muovete tra un attacco e l'altro, fate un errore madornale. State attenti a non resettare i vostri attacchi quando vi muovete, ma è movimento attacco, movimento attacco. Perché fate movimento attacco? Non è soltanto per muovervi verso l'avversario, lontano dall'avversario, non è soltanto quello, ma anche schivare delle cose. Cioè Namia fa più fatica a beccarvi con la bolla se vi muovete tra un attacco e l'altro. Capite che fa più fatica rispetto a che sei lì fermo, ti tiro la bolla di fine. Vayne fa più fatica a posizionarsi in modo da stunnarvi contro il muro se continuate a muovervi in modo da non avere un muro dietro. Capite? Perfetto. Oh, vedi che qui c'è stato... qui è stato rispettato. Adesso questo ve lo faccio vedere. Guardate, ragazzi. Questo è esattamente quello che vi dicevo. Guardate Nami, eh. Nami usa la bolla. La bolla è mancata? Boh, basta. Si gira e vola addosso. Questo è il giusto rispetto dei kit di questi campioni. Nami ha sprecato la bolla? Nami è inutile adesso. Non c'è più niente per bloccarmi. Ha dei danni? Sì, ma io non ho molti di più. Posso ucciderla. E quindi vado all in. Perfetto. Questo è quello che devi fare per tutta la partita, però. Ok. Andiamo avanti. Non c'è nulla da guardare qua. Ah, ok. No. Sapevi che Nami era morta? Va bene. Allora anche questo... Sì, sì, sì. Va assolutamente bene. Sapevi che Vene era da sola? Bravo. E ci sei andato. Perfetto. Questo vuol dire sfruttare bene il vantaggio del tuo campione. Drago. Cosa importante, ragazzi, se il jungler avversario sta facendo il drake, non andate al drake e cominciate a colpirlo anche voi. Non ha senso. Lo pullate al jungler avversario perché dopo lo smita. Invece, cercate di colpire il jungler avversario e ucciderlo prima che possa smitare. O avete una skill che può rubare il drago e allora a quel punto utilizzate la skill per rubare il drago se no non lo toccate. Drago, Baron, Herald, che sia. Perché non ha senso. E se no lui semplicemente sfrutta il fatto che fate del danno per velocizzare l'obiettivo e smitarlo. Se invece voi attaccate lui e lo uccidete non può smitare. Andiamo a mid. Ok. Qui non c'è niente a vedere. Non ho capito perché non hanno fatto la seconda torre. Allora, qui c'è un piccolo problema di movimento per la mappa. Stiamo continuando a fare mid bot, mid bot, mid bot. È troppo tempo sprecato. Capite? Cioè continuare ad andare in mid poi in bot, poi in mid, poi in bot. fate fatica a partecipare agli obiettivi e fate fatica anche a prendere del farm. Adesso stare in mid lane è la cosa corretta in questo momento. Abbiamo finito la ring phase. La torre bot lane è caduta. L'Herald tra poco spawna. Quindi giocare in mid lane è corretta come mossa. Un'altra mossa corretta che poi si poteva fare era giocare top lane per prendere la torre e allo stesso tempo stare anche vicino all'obiettivo. Perfetto. Una bella giocata aggressiva. Peccato per l'autoattacco 2 che sono stati missati. Molto bene. Mi è piaciuta molto. Bravo, è stato bravo qua. È stato bravo. Molto bene. Capisco anche che siamo in silver e quindi qui le rotation sono praticamente inesistenti. Quindi tipo se voi scrivete al team swap o roba del genere vi presentate mid vi presentate top vi pingano e vi danno dei coglioni. Questo lo capisco. però a quel punto non cominciate ad andare a destra e sinistra per la mappa. Molto pericoloso fare dei salti del genere. Mai. E questo è face checking sbagliato. sculatissimo che non sia stato stunnato. Adesso finiamo il team fight e vediamo tutti gli errori che ce ne sono. Allora qui c'è un piccolo abuso del salto di tristana. Cosa vuol dire piccolo abuso? Vuol dire che in pratica lo utilizzi troppo. In dei casi dove è meglio non utilizzarlo. Prima cosa attacco e movimento è importantissimo. Attacco, movimento attacco, movimento vedi che delle volte fai semplicemente attacco, attacco attacco, movimento attacco, movimento in modo da muoverti verso l'avversario. Seconda cosa non si salta mai fermi un secondo visione rossa perfetto non si salta mai su un Urgot in faccia così quando hai la bomba in cooldown perché questi HP non glieli fai quindi vuol dire che prendi troppi danni. Seconda cosa c'è Nami qua che potrebbe arrivare tipo fare flash ball flash heal sul tizio cioè flash acqua curativa e farlo rimanere in vita per un tot e scoppiarvi. Questo qui è il modo migliore per morire da dei carry anche se siete 10-0 ricordate che voi da DC ragazzi non buildate mai resistenze quindi voi potete essere 30-0 o 0-30 siete esattamente lo stesso sacco di merda l'unica cosa che cambia sarà il livello che ovviamente vi fornisce armature e HP quindi siete un pochino più resistenti ma il concetto è quello capite? di gold seconda cosa che ho visto non chiudete mai per l'amore del cielo il memento mori non lo fate prendete la chiamata del carnefice che è la spada e dopo il memento mori lo chiudete come ultimo item è un cesso fa schifo non serve a niente una merda quindi prendete la chiamata del carnefice e dopo continuate la vostra build normalmente non lo chiudete mai il memento mori da DC soltanto come ultimo item il secondo errore è stato questo perché è un errore voi non dovete mai face check da DC durante dei teamfights o puttanate vari per la mappa non è il vostro ruolo non siete voi quelli che devono mettere reward e non siete voi quelli che devono tankare questo vuol dire che muovervi in una zona della mappa dove sapete che ci sono uno o più nemici non dovete mai farlo non dovete mai entrare nel cespuglio per primi non dovete mai fare questo errore qui Kane è stato barocco barra sfortunato a tirare la V peggiore della sua vita e non ti ha stunnato se no saresti morto direttamente lì ma continuiamo il teamfight questo è un altro errore abbiamo detto attacco e movimento non soltanto per riposizionarsi cioè non soltanto per avvicinarsi agli avversari ma anche per schivare i skillshot che tra l'altro era uno skillshot che praticamente era già schivato ci hai camminato dentro una cosa importante del attaccare e camminare è anche mantenere lo spacing con alcuni avversari ad esempio se Nami si avvicina da qui ti puoi ti puoi spostare di qui in modo da non essere in range per la bolla ma continuerà ad attaccare Kane comunque stunnato va bene e questo è il secondo abuso della V di Tristana non c'è un motivo che ti spinge a saltare in questo momento in faccia a questo tizio non carichi prima la bomba perché non ce l'hai non lo riesci ad uccidere perché è full vita quindi ci metti del tempo c'è il mid laner qui e lo vedi perché c'è la bolla di Zoe quindi sai che sta arrivando ti metti semplicemente in pericolo perché perché ti metti in pericolo a saltare in un punto dove c'è soltanto un support non tanto perché ti avvicini a quel support ma perché utilizzi la tua V che è il tuo unico escape per avvicinarti all'avversario e non hai modo di resettarla perché non hai la bomba questo è un errore e questo lo paghi avete visto che in un piccolo team fight dove è partita dove sono partite addirittura due kill per lui barra per il suo team ci sono stati tre errori quattro errori differenti errori molto gravi qui siamo in silver in argento se tu fixi questi errori arrivi facilmente in gold gold alto anche e fixi altre cose arrivi in platino molto semplicemente sono tutte cose molto semplici da fixare non serve neanche essere bravi a giocare ma semplicemente pensare e avere la conoscenza di base per capire come e cosa fare in game non serve essere faker basta avere semplicemente il pensiero la strategia in testa di fare queste cose va bene fascia il baron avanti 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 ho capito vabbè qui non ho intenzione di analizzare questi team fight qua perché al massimo tiriamo fuori l'ennesimo errore non si muove o salta troppo vicino all'avversario roba del genere questo qui ad esempio questo è un altro errore giocare così tanto aggressivo è sbagliato potete essere 1000 saltare in questo punto da di care è sbagliato perché voi non avete visione sapete che c'è lui qui e avete visto urgot qua che già potrebbe essersi mossi intorno a questo punto vain erai in in mappa ma potrebbe essersi già mossa nami non sapete dov'è o forse si è vista nami fatemi vedere se si è vista nami per sbaglio forse si è vista mid non ne sono sicuro non mi sembra di averlo notato saltare su kane che è un campione che ha uno stun e la ulti per rimanere in vita e schivare i danni della vostra e tutte queste robe qua è un errore perché kane può semplicemente stunnarvi o tirarvi l'attacco base entra dentro di voi impedirvi di resettare il salto e dopo il suo team vi devasta che questo kane non l'abbia fatto perché è una merda è un'altra storia ma questo se lo fate in altri game è un errore e fate molta attenzione qui letteralmente andarci un secondo dopo era suicidio ok quindi qui è andata bene ma l'azione non era corretta questo è uno di quei casi dove l'azione finisce bene ma non è corretta quando è che invece potete giocare così aggressivo saltare su un avversario e robe del genere anche se è un kane kane è isolato vedete vedete tutto il team avversario lontanissimo e c'è solo lui e sapete che lui non ha i danni per uccidervi allora gli saltate in testa e cercate di uccidere tutto non cambia niente porca troia ok il flash è stato strano ma l'hai fatto apposta per cercare di flashare delle cose che non ti ha tirato capisco oh non so che ha fatto pure la kill broken andiamo avanti vediamo l'ultimo team fight perfetto il salto su dain ok attacco movimento sempre anche qua perfetto va bene ok allora ovvero la partita l'hai distrutta cioè hai fatto un milione di kill hai fatto un bordale di danni e tutto mi piace anche il modo in cui salti con tristana ti muovi aggressivo e tutto è molto importante con questo campione quindi hai già compreso le meccaniche di base di tristana come sfruttarlo come portare a casa un vantaggio va benissimo quello che devi migliorare è appunto le cose che abbiamo sottolineato quindi movimento tra un attacco e l'altro pensare in modo più aggressivo anche riguardo ai kit degli avversari che in phase uno o due volte sei riuscito a farlo il che è impressionante per il tuo per il tuo elo bravo ma delle altre volte invece l'hai dimenticato e pensare di più ai team fight cercando di giocare come un ad carry quindi non andando in prima linea nonostante tu sia affidato perché non puoi sopravvivere dosare i salti di tristana il fatto che ce l'hai fuori col down non vuol dire che lo devi per forza utilizzare certe volte puoi semplicemente fare un auto attacco in meno e avvicinarti a piedi per mantenerti una via di fuga ad esempio quindi overall mi è piaciuta la partita però era ovvio lei l'hai distrutta questa mi è piaciuto il modo di giocare fissa queste cose che ti renderanno sicuramente un giocatore molto molto più bravo chiudiamo qui l'analisi di oggi grazie grazie